Io direi che come Vice Presidente di Aglio Panazionale devo un po' superare i confini della Lombardia dove sicuramente ci stanno facendo molte cose, una grande attenzione a questo problema e devo anche dire un coinvolgimento del privato per fare un quadro un po' più generale di quello che sta succedendo in Italia e di quello che potrebbe essere il contributo che eventualmente il privato accreditato potrebbe dare su per affrontare, non voglio dire risolvere ma affrontare questo problema che è un problema direi che sta diventando quasi, non voglio dire un'epidemia ma se si pensa che un terzo dei cittadini europei hanno perlomeno una craticità, un quarto circa dimostrano dicono di avere delle limitazioni all'attività giornaliere che questo effetto non è solo un problema di età ma è anche un problema di reddito perché le classi sociali più basse hanno maggiori difficoltà che se noi andiamo a vedere i cittadini sopra i 75 anni addirittura sono il 60% hanno più cronicità e quindi è un problema che si acuisce se si considera che l'OMS valuta che l'80-85% dei sistemi sanitarici dovrebbero spendere le loro risorse per curare o gestire i problemi della cronicità in Italia i dati che sono ISTAT sono che il 22% è sopra 65 anni che rispetto a altri paesi negli ultimi dieci anni abbiamo perso l'aspettativa di anni di vita circa 4 anni rispetto per esempio ai 10 anni acquisiti in Svezia che la comunità europea tende a implementare e cerca di sviluppare e di stimolare tutti gli stati a sviluppare sistemi di primary care con purtroppo in Italia c'è un grave problema di finanziamento un problema di costi perché poi questo sicuramente molti progetti sono belli però poi devono essere finanziati la comunità europea anche dice che sicuramente trovare il giusto mix tra pubblico e privato nella gestione di questi per cercare di affrontare questi problemi può essere una strada una strada perché malgrado i numerosi sforzi che molti paesi hanno fatto per specialmente quelli al sistema beverage di efficientare il sistema pubblico sicuramente la compartecipazione del privato tuttora non è stata così utilizzata e sfruttata a fronte delle potenzialità che questo sistema potrebbe avere facciamo solamente proprio un numero brutale di due paesi che sono simili come popolazione Regno Unito 60 milioni, Italia 60 milioni il Regno Unito per l'autosufficienza spende circa 60 miliardi l'anno l'Italia compresa spesa pubblica e spesa privata in Italia se ne spende circa 36 miliardi quindi questo è già un numero sufficiente per capire che il problema è molto grave l'assistenza domiciliare in Italia la media è circa 20 ore rispetto per esempio alla media web che è circa 100 ore annue e la residenzialità in Italia è circa 18.1 letti per 100 mila abitanti rispetto a 100 letti che per esempio alla Svezia e come medicina domiciliare l'Italia riesce a dare circa il 2,7% dei pazienti che sono circa il 5% della popolazione circa 3 milioni e mezzo di pazienti di cui perlomeno 1 milione e mezzo gravi o anziani ecco l'assistenza domiciliare è veramente minimale quindi a questo punto quale contributo potrebbe dare il sistema privato non ci dimentichiamo che il sistema privato oggi sto parlando del sistema privato accreditato perché questa è una componente essenziale fondamentale all'interno del nostro sistema oggi solamente l'assistenza ospedaliera copriamo circa il 27% delle prestazioni con una spesa intorno al 13-14% del finanziamento pubblico devo dire che sicuramente noi il privato oggi potrebbe intervenire in molte parti del problema della cronicità che è un problema estremamente ampio perché naturalmente coinvolge sia assistenza ospedaliera che assistenza diciamo di prestazioni ambulatoriali che assistenza residenziale e domiciliare è certo che oggi a 40 anni dal nostro sistema sanitario che sicuramente ha avuto grandi grandi pregi noi dobbiamo attivare dei cambiamenti un cambiamento ideologico un cambiamento che però a mio parere deve assolutamente mantenere quelli che sono i principi fondanti mi piace più parlare della necessità di attivare la virtù della resilienza che invece della sostenibilità perché credo che noi dobbiamo pensare di noi dobbiamo cambiare il nostro sistema mantenendo quello che è l'università 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 l'equità dell'accesso il finanziamento anche sulla tassazione che però naturalmente va a volte integrato con altre forme quindi se noi pensiamo che in Svezia sicuramente un paese dove la componente diciamo statale pubblica è estremamente forte quelli che sono i primary health care center che sono praticamente l'equivalente alle nostre case della salute cioè luoghi di aggregazione dove territoriali dove ci sono medici di medicina generale specialisti dove il paziente si rivolge per gestire la cronicità sono per esempio gestiti per gran parte da un grosso gruppo privato la Capio e funzionano molto bene questo non vuol dire che questo vuol dire che il contributo che oggi il privato può dare sia da un punto di vista delle per esempio gestione o delle case della salute ospedali di comunità ma anche per quanto riguarda la residenzialità e poi fondamentalmente anche gli aspetti domiciliari è certo che oggi uno dei grandi limiti è questo sistema che è un sistema silos e purtroppo questo sistema silos è estremamente difficile e complesso perché ci sono molti interessi a volte contrastanti a volte no un esempio se ne è parlato stamani perlomeno in tre delle relazioni che ho fatto il fatto che rispetto a certi farmaci innovativi questi possono essere prescritti solo in alcuni centri pubblici questo qualcuno dice per ridurre l'accesso per evitare le spese penso però che prima di tutto se ci si preoccupasse dei pazienti per avere una medicina di cui il loro medico ha deciso che gli serve devono fare percorsi attese questo naturalmente non favorisce lo speed anche del trattamento della cronicità cronicità che è complessa perché naturalmente anche la crisi economica ha determinato come ci faceva vedere il dottor Monti stamani una maggiore precocità della cronicità quindi è un sistema complesso che io credo che il privato accreditato possa intervenire in maniera importante anche sicuramente è un sistema che è anche il privato accreditato che oggi è molto concentrato sull'ospedalità deve inventarsi nuove opportunità però le opportunità che ci sono credo che sia fondamentale pensare a un continuum temporale ospedale territorio e non due silos diversi perché oggi di fatto sono due entità che difficilmente si parlano si prova ogni tanto a farlo sicuramente a livello nazionale molte regioni ci stanno provando io credo però che che tuttora un certo bias ideologico o pregiudizi nei confronti del privato determini delle limitazioni alla possibilità di una reale integrazione non ci dimentichiamo che ancora non tutti i letti per esempio le esidenziali del privato accreditato disponibili sono utilizzati o sono sempre utilizzati che spesso e volentieri anche le risorse tecnologiche parlo sia di risonanza magnetica che di TAC di qualunque cosa non sempre è utilizzata al massimo in un momento invece io credo che potrebbe essere fondamentale proprio per affrontare un problema forse con un'ottica diversa e una diversa idea di collaborazione e integrazione i due attori che in realtà giocano la stessa partita e hanno lo stesso obiettivo che è quello di migliorare poi le prestazioni e l'attività che svolgono nei confronti dei pazienti non voglio entrare nel discorso dell'indotto che tutto questo potrebbe portare perché probabilmente avviare per il sero dopo quando parlerà della filiera della salute si concentrerà su questo grazie mille grazie per il contributo tra l'altro parlando di Silos quando ha parlato del Regno Unito e la differenza di finanziamenti per quanto riguarda l'assistenza diciamo domiciliare indubbiamente il Regno Unito non so se il fenomeno delle badanti ce l'ha così importante rispetto a noi teniamo poi conto della residenzialità per esempio questo spaltung che c'è fra nord e sud dove però al sud c'è magari una famiglia che è ancora caratterizzata da una certa forza qui invece nella regione settentrionale la situazione è un po' diversa poi ha parlato di privato accreditato che fondamentalmente eroga prestazioni per conto del servizio sanitario poi però c'è il privato privato e poi c'è il privato intermediato e quindi qui indubbiamente intervengono io mi ricordo un convegno con il direttore generale della programmazione Andrea Urbani dove fa gioco tutto il percorso adesso si parla molto di flat tax si parla molto di queste cose e c'è il problema delle taxes expenditures quindi sulla possibilità di intervenire con degli sconti fiscali per chi fa e qui il discorso della sanità integrativa che vedo in questo momento come medico di famiglia soprattutto in questa regione dove molti contratti di lavoro permettono ad avere ai dipendenti una serie di prestazioni quando si fa valutazioni di tipo diciamo preventivo il discorso della proprietà sta diventando proprio un grande disastro nel senso che si consumano perché non c'è una logica diciamo di coordinamento del percorso diciamo di prevenzione da parte di un soggetto che in questo caso dovrebbe essere a mio avviso il medico di famiglia o comunque un medico che si occupi di cure primarie grazie comunque prego adesso il dottor Pellissero io l'ho visto dove sei? ah ok benissimo allora ci dici un po' questo cluster lombardo di scienze vita sì e questa è una cosa terribilmente innovativa infatti diciamo è un po' l'occasione fra le altre importanti questo è veramente molto importante per un piccolo riferimento sul cluster dunque visto i dibatti cioè gli interventi che mi hanno preceduto e sono molto importanti io preciso subito che il cluster non è né pubblico né privato nel senso che il cluster è una organizzazione riconosciuta non istituzionale che ha come invece compito istituzionale è quello di costruire proprio un raccordo fra i governi e diciamo così i momenti formali istituzionali di governo di un sistema e invece tutto ciò che nella società concorre a mettere le premesse e a costruire la sua operatività i cluster sono ormai una presenza diffusa in tutta Europa dove si sente appunto fortemente questa necessità di dare a delle filiere di produzione una rappresentatività e una voce nel confronto con le istituzioni il cluster che io presiedo è il cluster lombardo di scienze della vita che a sua volta fa parte con un ruolo molto importante del cluster nazionale l'ISEI che è il cluster life science che si occupa della rappresentatività di questa filiera a livello nazionale il nostro lo dico così con una punta di orgoglio ma anche come oggettività è certamente una componente molto importante del nazionale perché raccogliendo tutti quelli che sono i soggetti che operano nella filiera delle life science in una regione fondamentale come la Lombardia certamente ha un peso molto significativo e faccio solo questo accenno per dire noi stiamo costruendo relazioni crescenti con altri cluster in altri paesi proprio perché esiste questa forte necessità di dare una visione organica alle filiere di produzione per farle lavorare meglio in collegamento con le istituzioni detto questo la realtà lombarda del cluster è una realtà composita è un'associazione tecnicamente che raccoglie tutti i principali stakeholder tutte le principali componenti della filiera delle life science per cui parte dal momento della formazione noi abbiamo associate tutte le università della Lombardia dal momento della ricerca scientifica per cui noi abbiamo associati tutti i principali centri di ricerca per esempio tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per svilupparsi nel rapporto con la filiera della produzione di beni e in questo fanno parte del cluster tutte le principali associazioni di categoria la farmindustria la soviomedica cioè tutti coloro che hanno questa finalizzazione di produrre beni e ovviamente abbiamo la presenza degli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato abbiamo delle ATS degli IRS pubblici e privati delle SST degli ospedali di diritto privato accreditato in Lombardia questa dimensione è molto importante come ha ricordato l'inizio Dario Beretta e diciamo il cluster ha lo scopo un po' da un lato di rappresentarli ecco vi faccio solo un caso noi affianchiamo la regione Lombardia su suo invito in tutte le occasioni di incontro internazionale creando opportunità di incontro fra le nostre linee di produzione e altre linee di produzione e altri mercati all'estero perché una delle cose che ovviamente per noi è importante è promuovere anche il valore del lavoro e della creatività lombarda nel campo del life science sul terreno internazionale sapete che su questo terreno in alcuni settori siamo straordinariamente forti noi siamo il leader europeo nella produzione di farmaci e nell'esportazione di farmaci questo è un grandissimo risultato di questo territorio e ci stiamo stiamo molto intensamente lavorando per aprire la grande capacità di produzione di prestazioni sanitarie di eccellenza sul territorio lombardo a cittadini provenienti pazienti provenienti da tantissimi altri paesi dell'Unione Europea e di fuori dell'Unione Europea stimoliamo profondamente la ricerca scientifica e creiamo e questo è importante un po' anche per il tema di oggi creiamo collegamenti permanenti fra centri di ricerca e linee di produzione industriale e facilitiamo il loro accesso ai programmi e ai finanziamenti di ricerca nazionali e internazionali in questa operazione lavoriamo per portare finanziamenti per far crescere la ricerca sul territorio della Lombardia ovviamente nel settore delle life science dunque è evidente che un tema della rilevanza epidemiologica e sociale così grande come il problema della cronicità non può non interessare fortemente l'intera filiera ma soprattutto non può non interessare i cluster come strumento di sollecitazione di attenzione nei confronti di questo nei confronti dell'intera filiera noi stiamo lavorando su questo perché vogliamo sollecitare l'intero sistema delle life science Lombarde a prepararsi a lavorare sempre di più in questa prospettiva fra le mille cose che facciamo e sulle quali lavoriamo e per esempio lo stimolo nei confronti delle linee di produzione di soluzioni tecnologiche per migliorare per esempio il rapporto fra medico e paziente e distanza ne cito uno perché è stracitato piuttosto che modelli organizzativi adeguati perché sicuramente riteniamo che su questo settore ci sia moltissimo da fare ma diciamo qual è la vision complessiva che noi abbiamo di ciò che sta capitando a proposito della cronicità e dell'approccio che con molta fatica a livello nazionale e con più incisività sicuramente a livello lombardo si dà a questo settore ecco sicuramente sicuramente una tutti i modelli che stanno emergendo richiamano a un concetto di fondo di una transizione o comunque diciamo da un grande spostamento di baricentro da una visione della medicina e della sanità come medicina di attesa a una visione della medicina e della sanità come medicina di iniziativa ora questo concetto che non è un concetto nuovo perché è un concetto degli anni 50 troviamo in letteratura scientifica da decenni tutto questo però ha oggi delle implicazioni importanti perché modificare una organizzazione vasta che pratica una medicina sostanzialmente di attesa cioè ha delle belle strutture fatte bene alle quali chi ha bisogno può ricorrere e trasformarla o comunque diciamo farla evolvere anche in un sistema che fa una medicina di iniziativa cioè che anticipa in qualche modo sistematicamente il bisogno e la domanda e cerca di governarne invece il suo rapporto con il sistema sanitario è un tema innovativo è un tema innovativo perché ripeto non è stato inventato oggi di questo tema hanno parlato molto alla fine degli anni 50 negli anni 60 i primi studi sistematici sulla diffusione dei modelli di prevenzione nelle comunità oggi tutto questo si applica tende ad applicarsi di più sull'altro tema che è quello della gestione della cronicità e ovviamente ha delle implicazioni tecnologiche che 50 anni fa non potevano esserci implicazioni tecnologiche che cosa significa che prospetticamente una buona gestione di una grande massa di pazienti che hanno livelli diversificati di bisogni sanitari ma che si esprimono in cronicità che hanno un problema di accessibilità crescente e di sostegno di contorno nella loro vita e nella gestione della propria cronicità che hanno problemi di relazione con il sistema dove trovano interlocutori importanti a partire dal medico e medicina generale ma anche tutta la componente specialistica ecco tutto questo crea una dimensione della complessità con la quale noi dovremo intervenire sempre di più in due direttive cioè con uno sviluppo tecnologico importante e noi stiamo sviluppando e stimolando la filiera di produzione a lavorare sempre di più su questo come cluster abbiamo un programma per esempio di visite e di studi nei confronti di quelle che sono le realtà più avanzate abbiamo fatto un viaggio estremamente interessante in Israele due o tre mesi fa paese che per una serie di problemi suoi su questo tema della medicina e dell'iniziativa e della gestione più integrata della cronicità è molto avanzato e poi abbiamo un problema organizzativo però io diciamo dicendo con questo che nella nostra regione c'è un insediamento imponente e uno straordinario investimento di capitali e di persone che lavora e lavorerà su questo da un lato dico che diciamo genero un elemento ottimistico perché io credo che la Lombardia sia una regione che davvero possa andare avanti in modo significativo e importante nell'affrontare questo tema dall'altro però debbo esprimere anche una preoccupazione con questo concludo questo mio breve intervento ma perdonate ma non mi è possibile in queste ore e in questi giorni ecco seguendo invece quelle che sono le dinamiche che stanno vedendo a livello nazionale non esprimere una preoccupazione qualunque progetto di miglioramento dell'assistenza al paziente cronico con modalità crescenti di medicina di iniziativa e uno sviluppo che richiede risorse noi questo l'abbiamo detto sempre e abbiamo anche fatto una piccola critica al piano nazionale della cronicità perché abbiamo detto che quando si scrivono tante belle cose ecco in un volume ma non si dice nell'ultimo capitolo come si fa a realizzarle noi scriviamo quello che una volta i giornalisti chiamavano il libro dei sogni il libro dei sogni è bellissimo ma noi non siamo dei sognatori noi siamo persone pratiche che lavorano tutti i giorni a contatto con i problemi della salute e vorremmo più che sognare invece poter fare allora questo tema però delle risorse è un problema veramente oggi strategico e diciamo genera in noi allarme in queste giornate perché le dinamiche con cui si sta dipanando a Roma o aggrovigliando a Roma il patto per la salute ne parlavamo prima nel corridoio con l'assessore che segue attentamente questo e mi limito a dire questo ma non sono delle dinamiche che ci convincono assolutamente non sono delle dinamiche che ci convincono perché la comparsa di una clausola di salvaguardia imprevista all'articolo 1 che è fortemente minacciosa di un'ulteriore sottrazione di risorse complessive al sistema è un elemento estremamente preoccupante è giornalistico ormai che l'ipotesi di dare una risposta alle problematiche che l'Unione Europea sta ponendo nella valutazione della possibilità di sottoporre il nostro Paese a una procedura di infrazione comprendono una vision che prevede una serie di tagli ulteriori al sistema sanitario e questa non è fantascienza purtroppo è realtà inoltre vediamo una grande resistenza a livello nazionale nel consentire alle regioni che sono capaci di farlo ecco di superare una serie di vincoli molto gravi che la legislazione degli ultimi anni è andato ponendo alla libertà di programmazione della regione e di questi in particolare due sono particolarmente significativi e anch'essi minacciosi per le nostre prospettive che sono da un lato il vincolo alla possibilità di recuperare le risorse umane di sistema che sono venuti a mancare la dinamica delle assunzioni e dall'altro il vincolo di non poter utilizzare una risorsa che in questa regione è assolutamente determinante che è la componente di diritto privato del sistema bloccata dal DL95 ancora oggi la non volontà a livello nazionale di mettere mano a questi problemi rischia purtroppo di creare un danno gravissimo al progetto della regione Lombardia di un sistema sanitario veramente avanzato competitivo a livello internazionale nel quale inserire in modo adeguato anche il tema della cronicità perché è tutto evidente che se noi avremo risorse vincolate possibilità di movimento regionale estremamente frenate non possibilità di utilizzare tutte le risorse presenti sul territorio limiti controlli ingiustificati di ogni tipo e genere è chiaro che qui stiamo parlando di parole ma la possibilità vera di governare una transizione così difficile così importante non ci sarà ovvio che vorremmo tutti che ci fosse una ben diversa visione a livello nazionale qui si sta venendo fuori che veramente l'unica speranza a cui forse ci si può aggrappare è quello di un'autonomia veramente forte di questa regione perché è davvero profondamente fastidioso e direi anche da cittadino davvero non sopportabile il fatto che in questa regione ci possano essere le risorse le capacità le prospettive la progettualità per fare una grande cosa e poi qualcuno ci venga a dire che non la possiamo fare ecco il cluster nella sua interezza pubblico e privato produttori di bene produttori di servizio su questo è impegnato a fianco anche della regione naturalmente ma soprattutto è impegnato nel suo ambito di rappresentatività a sostenere invece con vigore quello che è lo sviluppo di un progetto su quale bisognerà tanto lavorare bisognerà destinare più risorse ma che sicuramente ha uno straordinario valore grazie grazie Gabriele insomma qualche sassolino dalle scarpe però penso che tutti ce ne abbiano tanti una riflessione minima grazie anche il dottor Biaggi prima aveva parlato così dell'idea di guardare anche oltre i confini della nostra della nostra regione che in alcune situazioni diventerebbe una torre una torre d'avorio importante ma in alcuni casi diventerebbe anche una prigione tra l'altro il dottor Beretta ha parlato di 833 502 ha parlato del 229 si è dimenticato di citare la 189 che la riforma a Balduzzi dal 2012 sono passati se non vado errato sette anni dove indubbiamente come diceva il dottor Pellissero se vuoi fare una riforma e poi non la finanzi alla fine non ce la fai assolutamente un esempio molto banale Gabriele hai parlato di medicina di iniziativa una cosa di una banalità estrema che è la vaccinazione antinfluenzale io devo richiamare 400 dei miei pazienti per fare la vaccinazione antinfluenzale per fortuna che ho a disposizione del personale di studio che fa questa chiamata attiva il 60% dei medici famiglia i collaboratori di studio non ce l'hanno ma non perché non lo vogliono ma perché non c'è possibilità di avere uno straccio di finanziamento a questo punto io darei la parola a dottor Maggi poi citerei due cose San Ciriaco la Madonna della Piazza giusto Santa Maria della Piazza la Fontana del Calamo il Lazzaretto Van Vitelliano e poi manca un'altra cosa che è l'Arco di Traiano queste sono delle cose che sono se voi andate ad Ancona assolutamente le trovate ed è una città meravigliosa dottor Maggi è di Ancona è segretario regionale della FIMG delle Marche ed è anche l'amministratore di Nusa Servizi che è una società di FIMG che si occupa di promuovere anche l'innovazione nel territorio l'accento non è bergamasco però fa niente nessuno è perfetto buongiorno a tutti grazie di questo invito e per me è molto interessante potermi confrontare con tematiche così importanti ma io affronto il problema dell'ICT nello studio del medico di medicina generale e per iniziare a trattare di questo tema voglio offrire un po' una panoramica di qualche ricerca sulla capacità o come dire sulla anche attitudine propensione del medico di medicina generale ad accettare questa nuova opportunità questa nuova funzione che la tecnologia mette a disposizione delle sue attività infatti nel 2017 l'European General Practice Research Network attraverso il Medical Futurist Institute ha realizzato una survey che sostanzialmente dice molte cose ma quello che è importante è che circa il 74 75% dei medici di famiglia intervistati era una survey diciamo cross europea che attraversava diversi paesi dell'Europa che interessava diversi paesi dell'Europa circa il 74% di questi medici usano in qualche modo la tecnologia digitale la maggior parte il 75% usano i social il 59% le app il 30% gli health device è la telemedicina l'unico elemento critico di questa ricerca è che era interessava medici che già avevano una propensione all'uso della tecnologia in quanto avevano anche avevano un computer e quindi utilizzavano il computer però anche all'interno di questa categoria ad esempio il 20% pensava che non fosse necessario utilizzare la tecnologia di ambulatorio di studio una più recente una più recente indagine condotta dal centro studi FIMGE con l'osservatorio innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano ci dà delle indicazioni anche queste piuttosto interessanti innanzitutto ci fa vedere come gli strumenti utilizzati per interagire con i pazienti probabilmente è il livello attuale di uso maggioritario più massivo della tecnologia come voi vedete molti medici i medici che hanno partecipato a questa survey dicono di utilizzare le email gli sms e il whatsapp poi calano un pochino quando si tratta di lavorare su piattaforme di comunicazione e su skype l'altra cosa interessante l'altra cosa interessante è notare come le attività diagnostiche di primo livello la spirometria l'elettrocardiografia l'olterpressorio eccetera abbiano già una discreta presenza utilizzo ma hanno soprattutto una prospettiva di essere utilizzate percepita abbastanza forte nel setting della medicina generale a riprova di questo è stata fatta una estrapolazione anche degli investimenti che i medici di famiglia sarebbero disposti a fare per acquisire la tecnologia che chiamiamo di primo livello quindi utilizzare servizi di ITC e digitali e voi vedete che ci sono praticamente tutti i delta positivi rispetto nel 2019 rispetto al 2018 dimostrando come sostanzialmente il medico sarebbe ben predisposto ad acquisire questa tecnologia a patto che ci siano alcune condizioni e le vedremo i vantaggi che vengono individuati sono quelli del riguardo nel coinvolgimento del paziente l'accessibilità delle cure l'efficienza del lavoro la qualità dell'esistenza certo non è tutto oro quello che riluce ci sono anche aspetti negativi che vengono messi in evidenza dai medici intervistati cioè ad esempio l'eccesso di diagnosi una possibile rate di interpretazione dei dati anche da parte del paziente e probabilmente come sempre l'incombente paura del carico burocratico che in medicina generale è lo spauracchio più forte che spesso frena molte delle iniziative interessanti certo noi quando parliamo di tecnologia di nello studio del medico medicina generale nel setting della medicina generale la digitalizzazione l'ict intendiamo anche altre cose intendiamo le terapie digitali ad esempio il fascicolo sanitario elettronico l'intelligenza artificiale e poi anche le blockchain io non parlerò di queste cose c'è solo uno spot sulle blockchain se parlato di pi se parlato di dati il medico di medicina generale che produce tantissimi dati durante la sua giornata di lavoro ebbene il blockchain potrebbe essere come dire proprio un buon sistema ad esempio per garantire la proprietà intellettuale di tanti dati che il medico di medicina generale produce che rappresenta in qualche modo l'opera della sua attività intellettuale da ultimo ricordo che qualche anno fa era uscito sul Corriere 7 un inserto siamo nel marzo del 2018 in cui il medico di medicina generale veniva dipinto la percezione che le persone avevano di questo medico di medicina generale cosa doveva essere era rassicurante disponibile e digitale ma dove si scrive allora questa nuova percezione del medico di famiglia e che diventa anche un nuovo orizzonte per la medicina di famiglia stessa certamente lo sviluppo di una tecnologia digitale dell'ITC che rende più accessibile più fruibile e a basso costo l'esecuzione di alcune prestazioni che possono essere rese anche in remoto rendendo quindi una credibile e praticabile un approccio che potremmo definire di primo livello in grado di dare risposte rapide di semplice esecuzione e replicazione anche con l'assistenza della tele di fertilizzazione della telemedicina indubbiamente favorisce tutto questo però non è solo questo non è solo questo io credo che ci sia un processo un pochino più profondo che è quello di un radicale cambiamento del concetto di salute noi oggi abbiamo parlato della necessità di attivare molti processi innovativi di ammodernamento anche di radicale come dire sviluppo non dimentichiamo che alla base di tutti questi processi c'è questo cambiamento del concetto di salute noi che siamo tutti figli di Almata oggi dobbiamo cominciare a capire che questo concetto del totale benessere completo benessere psicofisico e sociale che è stato alla base di tanta politica di promozione della salute e ha sostenuto la realizzazione e la creazione di tanti sistemi universalistici e solidaristici ebbene comincia a mostrare tutta la sua come dire fa acqua tutte le parti e comincia a dimostrare anche la sua incapacità di poter rappresentare e contenere l'esplosione la bomba epidemiologica della cronicità e tutti i problemi connessi con l'assistenza dei nostri pazienti dal 2010 si comincia con l'invitational conference che si è tenuta in Olanda alcuni hanno cominciato a porre il problema se la salute sia uno stato oppure una abilità recuperando quello che Illich nel 76 chiamava la capacità di fare fronte alle avversità della vita ovvero il concetto di salute di Alma Ata dell'OMS che questo a condizione di completo benessere psicofisico e sociale si sta trasformando sempre più in un concetto di resilienza ovvero quindi questa capacità di fare fronte all'avversità della vita e di rafforzare e sviluppare la salute possibile determinando un radicale cambiamento dei modelli proprio dell'assistenza territoriale prima si parlava di distretto che in qualche modo è l'organismo della realizzazione delle cure primarie però al miei c'è da considerare una cosa le cure primarie di fatto con questa prospettiva si stanno rapidamente trasformando in quelle che si chiamano le cure dell'accompagnamento quindi le cure dell'accompagnamento chiaramente sono quelle che rafforzano la capacità di percepire la salute come un progressivo adattamento proattivo un'attenzione a raggiungere equilibri successivi la tecnologia indubbiamente ha un ruolo strategico e centrale che rende più prossime e immediate le risposte più fruibili e accessibili da alcune tipologie di esami anche la figura del professionista cambia anche la figura del professionista cambia perché questo professionista diventa sempre più un professionista inserito all'interno di una rete collaborativa diventa sempre più un professionista che deve imparare a ragionare in termini di reti di saperi e non di gerarchie di saperi le cure dell'accompagnamento sostanzialmente hanno questa declinazione e i social e l'information technology communication hanno questo sono uno strumento strategico indispensabile per sviluppare l'evoluzione di questo modello di cure la prossimità l'accessibilità la prospettiva collaborativa la proattività e la presa in carico la personalizzazione e la realizzazione del processo di cura certo che tutto il sistema sanitario è un sistema complessivo curante però bisogna capire qual è il setting più adatto per realizzare percorsi di intensività rispetto a percorsi di estensività bisogna capire se l'approccio intensivo si può applicare alla cronicità oppure non bisogna applicare altro tipo di approcci nella fattispecie quello estensivo dunque la digitalizzazione dell'attività sanitaria diventerà una parte organica delle cure dell'accompagnamento e il medico di medicina generale potrà essere considerato una sorta di health coach in grado di interpretare dati dare consigli quando si accorge che c'è qualcosa che non va cosa fa Nusa Servizi permettetemi un attimo di dire qual è il progetto che c'è dietro a questa organizzazione della FIMG attraverso un progetto che si chiama studio medico 3.0 sostanzialmente vuole promuovere una unità come dire una rivisitazione dell'organizzazione della medicina generale creare una unità professionale territoriale un micro team dove a fronte di un medico di medicina generale che poi troverà lui le modalità più adatte per realizzare le sue attività professionali gruppo l'organizzazione dell'aggregazione le cooperative o qui lauree quindi come dire non posso non sottolineare questa modalità così importante ebbene ma non da solo non da solo volutamente qui non abbiamo messo medico di medicina generale e i colleghi abbiamo messo solo il medico di formazione che fa parte di questa unità perché anche qui sarebbe un discorso importante le marche hanno fatto una delibera che prevede i tirocini professionalizzanti quindi noi utilizziamo i medici in formazione nei percorsi anche di cura nelle nostre practice nelle nostre nei nostri studi particolare quelli associati che le medicine di gruppo ma l'assistente di studio medico il collaboratore lo diceva prima Fiorenzo ma non solo l'infermiere di famiglia l'assistente sociale il fisioterapista ecco questi sono professionisti che possono rafforzare realmente questa presa in carico complessiva del paziente secondo un modello di estensività non senza una tecnologia il doctor office veniva chiamato ho utilizzato questa ormai definizione questa parola ormai da lungo tempo conosciuta ma tanto per farci capire non senza questa tecnologia che può implementare un nuovo modo di favorire le risposte ai bisogni dei cittadini certamente anche qui se è vero che lavoriamo in una logica di rete di saperi non possiamo non possiamo non confrontarci con il farmacista con gli specialisti quindi da questo punto di vista deve nascere qui veramente una grande alleanza in grado di fare sinergia e in grado di rappresentare quella modalità di presa in carico complessiva in cui la rete dei saperi sia in grado di dare risposte anche complesse alla cronicità vedete la cronicità non è la complessità di serie B è non è come dire una cosa di livello di rango inferiore è un altro tipo di complessità l'acuzie è un'alta complessità la cronicità è un'altra complessità quindi sostanzialmente studio medico 3.0 è questo progetto professionale che a fronte di personale di studio adeguatamente formato e di tecnologia di primo livello che risponde a quei criteri che dicevo prima cioè dispositivi a basso costo semplicità rapidità di esecuzione ripetibilità e interpretazione non complessa uso discrezionale della teleferitazione o telemedicina se io me la cavo bene a interpretare un elettrocardiogramma potrei anche farlo da solo autonomamente diversamente posso riferirmi appunto alle conoscenze dello specialista è in grado di raggiungere rafforzare i principali obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale ve li risparmio perché li conosciamo tutti e poi sono descritti nella slide attualmente noi abbiamo due canali per realizzare questo tipo di obiettivo da un altro le app che organizzano le attività di studio ne abbiamo disponibili due uno si chiama studio medico semplicemente l'altra visitami tra l'altro visitami è un collega lombardo che si è prodigato nella realizzazione di questa app e servono essenzialmente per l'organizzazione dell'attività di studio gli appuntamenti i referti le richieste da parte dei pazienti e quant'altro possa servire per fidelizzare a quella struttura un paziente rendendo tra l'altro riducendo anche il carico di lavoro anche per le stesse segretarie io ormai da più di un anno sto utilizzando il mio gruppo da più di un anno sto utilizzando le app questo tipo di app e all'incirca il lavoro abbiamo stimato che il lavoro burocratico anche con i nostri collaboratori di studio noi abbiamo uno studio con 5 medici con 3 collaboratori di studio e 2 infermieri è calato dal punto di vista della burocrazia la ripetizione di ricette la richiesta di certificati vengono fatti in uno slot particolare della giornata e meno persone affollano il collaboratore per richieste di ripetizione e quant'altro e poi il doctor office essenzialmente in questo momento noi abbiamo la possibilità all'interno di un ipad di avere delle app in grado di poter collegarsi o meno con una piattaforma per poter erogare prestazioni di telecardiologia teleoftalmologia teledermatologia e la telepneumologia ecco io credo che anche prima c'era una slide che in qualche modo riecheggiava questa mia prospettiva una nuova riforma della sanità un nuovo cambiamento della sanità stia arrivando ci sono alcune condizioni per poterlo realizzare essenzialmente i medici di medicina generale devono essere disponibili a implementare nuovi modelli anche investendo sulla professione dai dati che noi abbiamo dai dati che noi abbiamo questa sensibilità è presente in maniera piuttosto rilevante all'interno della nostra categoria tale da concederci in qualche modo qualche speranza di successo per questo tipo di progetti non tutti la pensano allo stesso modo non tutti lo sappiamo però io credo che il numero dei medici che in questo momento giovani e meno giovani junior e senior che pensano di poter investire sulla loro professione per lasciare una medicina per come dire rendere più aumentare il capitale professionale della medicina generale sia un numero piuttosto rilevante e interessante la necessità di avere un quadro normativo e di regolamento regionale e nazionale che sia ho finito che sia in qualche modo in grado di consentire legittimare i medici a fare esami di primo livello nel proprio studio Lombardia e Marche hanno già da questo punto di vista sono a posto con la documentazione le Marche con gli ambulatori avanzati una maggiore applicazione tra l'altro di quello che è già previsto nell'allegato di perché il medico di medicina generale i medici di medicina generale possono fare come dire accordi aziendali e regionali per erogare prestazioni di primo livello e allora mi piace chiudere il mio intervento recuperando una frase che ha fatto ha scandito la ripresa del movimento della medicina generale la medicina generale in movimento l'ho definita in un twitter il convegno che c'è stato che ha organizzato Gabriele insieme ai suoi collaboratori a febbraio mi pare qui a Milano ecco quando spira forte il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri saltato c'è altri mulini a vento ecco intercettare la novità del cambiamento quindi consedirà la medicina generale di accompagnare ogni cittadino nel proprio percorso di salute tutelando maggiormente il suo diritto alla salute vi ringrazio grazie Massimo intanto chiederei a l'ottor Stocco che ecco ci parlerà delle best practices al di là delle parole d'ordine due riflessioni rispetto a quello che hai detto l'utilizzo delle mail di Whatsapp e poi sul GDPR della privacy vediamo di farci qualche riflessione e poi una cosa interessante quello che caratterizza veramente nella pratica quotidiana il lavoro del medico di medicina generale è che per contratto è obbligato ad essere connesso alla rete e quindi questo diventa anche una grande opportunità per utilizzare gli strumenti più innovativi prego grazie grazie dottor Corti ringrazio Motore Sanità per l'opportunità di parlare della nostra azienda la SST Santi Paolo e Carlo riflettevo sul titolo di questo che vuole essere un brevissimo intervento al di là delle parole d'ordine che cosa si fa mi sono venute in mente alcune cose tra parentesi una bellissima frase dell'allora presidente Maroni che in un corso di una presentazione di una legge delle tante leggi di riforma della regione Lombardia disse una buona riforma è buona quando i cittadini percepiscono che esiste la riforma l'altra considerazione è che noi dobbiamo essere in grado di calare nel nostro contesto di riferimento le norme che la regione lo Stato ci chiede di affrontare e di rendere evidenti ai cittadini la nostra è un'azienda che lavora in un territorio periferico di Milano molto periferico sud ovest di Milano dove i problemi di integrazione i problemi delle fragilità sono molto sentiti dove il ruolo della nostra azienda pubblica sia ospedaliera sia dei servizi territoriali è un ruolo che è vero effettivo dove sentiamo veramente la pressione dei nostri cittadini con i cittadini dei pazienti che hanno bisogno dove il bisogno è un bisogno sociale che spesso e volentieri si riflette in un bisogno di tipo sanitario qualcuno dice che è un'area un po' dimenticata non è vero noi abbiamo tantissimi servizi attivi sul territorio quindi di che cosa parlare dei 700 erotti pazienti presi in carico del servizio interno di gestione del sistema appunto della presa in carico dei PAI mi sembrava un po' ridondante o del fatto che ci sono quattro case manager infermieristici che si occupano appunto di gestire questi pazienti dell'aderenza alla terapia del fatto che oggi abbiamo firmato due contratti con due cooperative di medici per le famose agende per dargli la possibilità di prenotare sulle nostre agende mi sembrava una cosa un po' appunto ridondante perché ho deciso di parlarvi di uno dei tanti esempi di come le buone pratiche possano in qualche modo essere riprese cioè le buone pratiche intendo le buone pratiche dei rapporti tra i professionisti di tutte le professioni sanitarie dall'infermiere il medico il medico in medicina generale gli specialisti il territorio i consultori e che quanto queste buone pratiche siano in realtà riprendibili sfruttabili non so come dire integrabili con quello che è la riforma del nostro sistema sociosanitario regionale della presa in carico questo io sono al San Paolo e San Carlo da quattro mesi e mezzo ma è un un servizio che mi è piaciuto molto che è il servizio di accompagnamento alla genitorialità in adolescenza dovete pensare che ci sono casi di ragazzine che rimangono in gravidanza a 11 anni 12 anni e quindi noi seguiamo grazie veramente a questa straordinaria capacità dei nostri specialisti e dei nostri infermieri dal punto di vista quelli che lavorano nei consultori di prendere in carico queste fragilità importanti che riguardano sia gli aspetti sociali sociosanitari e sanitari e riuscire ad implementare da 2016 un servizio di questo tipo ci sono in questo momento 105 famiglie chiamiamole famiglie che sono state prese in carico e vengono seguite quasi quotidianamente per dare una speranza a questi giovani giovanissimi genitori che hanno deciso di mantenere questo loro sogno di avere un figlio che è arrivato in un contesto ripeto il nostro contesto periferico di Milano complicatissimo io che sono arrivato dopo tre anni di Monza non mi aspettavo di trovare questo veramente questo substrato incredibile anche di valore multiculturale che esiste all'interno della periferia di Milano questo è veramente un esempio uno dei tanti che popolano la nostra azienda vive di servizi che riguardano sia i cinque consultori integrati riguardano gli ambulatori la presa in carico del paziente da quando si presenta lo sviluppo del contesto sociale familiare e tutto quello che è importante per garantire questo tipo di attività non credo di dovervi rubare altro tempo questo è un esempio mi sembrava un esempio reale di ciò che si può fare e quello che è il nostro compito è favorire non tanto top down le esperienze ma quanto farle crescere dal basso perché voi professionisti siete in grado di lavorare su tante di quelle fragilità e quindi di sviluppare il vostro lavoro che noi nel ruolo dei direttori generali possiamo fare altro che prendere e dare spazio e visibilità e sviluppo tutto qua grazie grazie Matteo anche per questa questo pezzo in effetti siamo abituati quando si parla di fragilità pensare al paziente anziano che è malato invece qui proprio in una dimensione direi quasi totalmente sociale poi questo numero 105 famiglie insomma chiamiamole così che hanno giovani che hanno deciso di portare avanti la la vita di un di un bambino è veramente una testimonianza molto molto interessante lo cante adesso siete in due a parlare Silvano Casazza e la Beatrice Mazzoleni Silvano adesso tu sei direttore generale dell'ATS di della Brianza si dice della Brianza con una grande sensibilità peraltro sul sul fatto socio-sanitario giusto e poi l'infermiera e quindi una figura molto importante che sul territorio con i medici e con i farmacisti devono diventare nodi di questa rete ormai abbiamo capito che i silos dovremmo abbatterli però ci sono ancora prego buongiorno a tutti e grazie per gli organizzatori per l'invito io toccherò tre punti tre temi vediamo poi il contesto in cui si inserrà il mio intervento la filosofia che sta dietro alle azioni chiamiamola di formazione di accompagnamento da parte di ATS per lo sviluppo del nuovo sistema socio-sanitario e le azioni attuate sul territorio di ATS Brianza ecco parlando del contesto sono partito dalla parola che è presente nel titolo del mio intervento parliamo di territorio quindi la medicina del territorio in passato quando avevamo una definizione centrata sull'offerta il territorio era tutto quello che non era ospedale e quindi il territorio aveva un ruolo marginale negli ultimi anni con la definizione incentrata sulla domanda quindi sui bisogni del cittadino il territorio è diventato l'ambito in cui la persona trova una risposta ai propri bisogni attraverso una rete integrata di servizi di cui fa parte anche l'ospedale e quindi il territorio è venuto ad assumere un ruolo centrale se andiamo a prendere la legge 23 troviamo ben 96 citazioni della parola territorio quindi a rimarcare il cambio di passo rispetto al passato e il ruolo centrale del territorio della rete territoriale in stretta connessione con il polo ospedaliero la legge 23 disegna un assetto organizzativo che vuole superare i grandi silos rappresentati dall'ospedaliero